300 euro per un nuovo paio di occhiali. Ah, solo di uno. 300 euro per un corso di sviluppo personale? No, sono un sacco di soldi. 1000 euro per il nuovo iPhone? Quando esce? Dai, dai, andiamo lì. 1000 euro per un'opportunità di business? Cosa succede se perdo quei soldi? Sei pazza? 10.000 euro per un semestre all'università? Certo, è necessario avere un corso universitario. 100 euro al mese per un corso imprenditoriale? Cosa puoi insegnarmi? Come andare in pensione nei prossimi due o tre anni? No, Diana. O altri debiti da pagare? Vedi, se ti rendi conto, il problema non è la mancanza di risorse, non è la mancanza di denaro. Non dirmi che la vita non ti mostra opportunità. Dimmi meglio che non eri preparato per riceverli. Ogni volta che vedo succedere questo, ho realizzato che la differenza principale tra un povero e un ricco non sono i soldi, è il modo di pensare. Se sei pronto per un cambiamento nel tuo modo di pensare e il tuo modo di vivere, contattami.